Hanno finalmente un nome ed un volto due dei tre componenti del branco che nell'aprile 2005 segnò la vita di una 53enne impiegata palermitana. Gli agenti della sezione investigativa del commissariato di polizia Brancaccio hanno infatti arrestato, in linea con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo Pasqua Seminara, Michele Guarino, 22enne, pregiudicato bagherese, mentre per Luca Campanella, 24enne, pregiudicato palermitano, è stato eseguito dai poliziotti un decreto di fermo emesso dal Tribunale di Palermo. L'accusa per entrambi è di violenza sessuale di gruppo, lesioni aggravate e rapina pluriaggravate in concorso. Le indagini, durate due anni, hanno permesso così di giungere due soggetti che, insieme ad un altro complice tuttora ricercato, tutti e tre incappucciati, la notte tra il 12 e il 13 aprile 2005 si introdussero a casa della vittima, vicino alla stazione centrale. Razziato il denaro e alcuni oggetti di valore presenti nell'appartamento, i malviventi si accanirono sulla donna con un'aggressività incredibile, giungendo a compiere una violenza sessuale di gruppo. Determinante ai fini dell'operazione odierna è stato anche l'intervento della polizia scientifica. Tracce biologiche di varia natura sono state infatti rilevate all'interno dell'appartamento e dopo essere stata analizzata dagli esperti hanno contribuito ai due arresti. Non avevamo molti elementi, però lavorandoci su siamo riusciti intanto a rilevare le tracce biologiche, chiaramente, che purtroppo non potevamo attribuirle ad alcuno se non dopo un'attività puramente investigativa. Il telefono rapinato ci ha consentito, visto il successivo utilizzo, di individuare un gruppo di persone e quindi da questo gruppo di persone fare una cenita, valutare un po' gli aspetti relativi ai precedenti criminali e le frequentazioni tra questi soggetti di qua e poi anche il fatto che l'episodio avvenuto nottetempo è con soggetti coperti da passamontagna ci ha fatto sicuramente pensare che potesse essere determinato questo fatto dalla possibilità o probabilità addirittura di essere comunque facilmente individuati.